La venerdì, una nuova stella brilla nel firmamento di Beautiful, una stella di Hollywood, Charlton Eston, il mito che entra nella vita dei Forrester per regalarci nuove sorprese. Sarà una serata tempestata di stelle del cinema. Benissimo. Per te da venerdì alle 13.30, Beautiful è sempre più Beautiful su Canalicimo. Baschette Polly, solo olive e niente acqua, solo gusto e niente altro. Baschette Polly, oggi anche con l'insalata per riso. In Europa inglese si dice Di Agostini. And the stocks will be transferred tomorrow. Unterex a Londra. Sì, subito. L'inglese per te, con audiocassette, cd e da oggi anche su floppy disk. Yes, I'm ready to start. I'm ready to. Ma tu parli inglese. Sì, è facile con il tuo corso. L'inglese per te è già in edicola nell'elegante cartella, con audiocassetta a 2.900 lire, con cd a 4.900 lire e in più la prima parte del dizionario fondamentale, Corsi di lingue di Agostini. E il tuo che sapore ha? Albicocca. E il tuo? Dragola. E il mio? Banana. Però che bello, che un albero solo ha tutti questi sapori. La natura di Yomo la senti, dal sapore. Yomo ti premia con la maglietta viva che si colora alla luce del sole, creata da Fiorucci. La natura di Yomo la senti, dal sapore. Fatto. Già fatto. Già provato. Facile. Fatto. Fatto. Già fatto. Uno scherzo. Mai visto. Nuova Pepsi Max. Tutto il gusto che vuoi e niente zucchero. Fatto. Fatto. Provata. Il massimo. Nuova Pepsi Max. Gusto Max. E niente zucchero. Happy Dance sorridi di freschezza al mondo che sorride intorno a te. Happy Dance scopri il piacere e la grande voglia di stare insieme. Happy Dance scopri il piacere e quel senso di libertà. Noi non si attacca e non si attaccherà. Al lavoro del tuo dentista. Happy Dance. La libertà di masticare. E per chi ama il chewing gum in confetti, oggi Happy Dance c'è. Ma te la sei fatta delle più. Ma sì, ci sono le squadre più forti tutte le domeniche, tutte in diretta. No, no, sono proprio contento. Così ti sei deciso. Mi piaceva troppo e alla fine me la so fatta. Bella, bella. Anzi, ma fattela pure te. Che schifo. Che schifo. Ma con chi c'avevo? Con te. Guarda qua. Vieni a armare col pullover. Se mi sa paura. Dal 4 settembre su Tele più 2 tutte le domeniche, tutte le più grandi sfide della serie A, tutta in diretta. Tele più 2. La sfida continua. Il mio computer parla con English by PC. Il corso d'inglese... Odi mediale. Interattivo. Con un'offerta a Olivetti PCS 42. La prima uscita è in edicola con una novità assoluta. L'esclusivo Magic Sound per ascoltare l'inglese... Come on. ...da tuo PC. Fabri Editori Schenker. Arrivano i nuovi regali Barilla. Gli amici in cucina. Raccogliete le farfalle su pasta e sughi Barilla. Con Barilla in cucina. Non c'è paragone. Graham Marshall è un pubblicitario in carriera. Mettiamo a mare la barca sabato. Ah, e la nostra che facciamo? Non la mettiamo a mare? Crede che niente e nessuno possano fermare la sua scalata al successo. Che cosa vorresti dire? Non ce l'hai fatta, Graham. C'è solo una cosa che non ha ancora sperimentato. Il delitto. Devo darle una brutta notizia. Un incidente? Michael Caine. In prima visione TV. Come far carriera molto disonestamente. Domani alle 20 e 30. Su Rete 4. Dove. Dove.